Ciao Elena, innanzitutto grazie mille di essere qui ospite oggi in questo nuovo setting di Hotpot per questa intervista, è un piacere conoscerti. Grazie, grazie a te Matteo per avermi invitato. Ottimo. Allora Elena, tu sei la brand manager Italia di The Fork e adesso andremo un attimo a vedere anche in particolare cosa fai in bene il tuo lavoro, il tuo percorso. Assolutamente. E però prima, come piace a noi, cominciamo con delle domande out of the pot che non c'entrano a niente. E mi piacerebbe chiederti con che cosa hai fatto colazione oggi? Con che cosa ho fatto colazione oggi? Con dei biscotti secchi, semplicissimi, e un caffè perché sono napoletana e quindi per me proprio non c'è un altro modo per iniziare la giornata, altrimenti non parto ecco. E cos'altro? Basta. Poi a metà mattina ho mangiato delle noci in ufficio perché abbiamo questo ufficio super rifornito di frutta fresca, secca, cibo healthy e così e quindi insomma posso approfittare. E lo spuntino, lo spuntino, non ce ne priviamo mai dello spuntino. No, 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 è importante. Tra una riunione e l'altra serve per ricaricarsi. Hai avuto tante riunioni oggi? Stamattina sì, cioè a venerdì intenso. Ok, ok, ok. E invece un'altra domanda sempre legata al cibo è se tu pensi a un momento della tua infanzia in particolare, molto bello e che associa al cibo, qual è? Ah, guarda, non ci devo neanche pensare perché è un momento della mia infanzia molto molto bello che ricordo sempre. A Natale, poco prima di Natale, sotto le feste, con mia mamma, mia nonna e mia sorella facevamo gli struffoli e quindi insomma facevamo tutto l'impasto. Ovviamente io e mia sorella collaboravamo da bambine come collaborano delle bambine, quindi per lo più sporcando. E appunto poi friggivamo questi struffoli e noi li rubavamo prima che fossero veramente completati col miele. Per donare l'ignorenza, ma gli struffoli non so che non sono. Gli struffoli sono un tipico dolce natalizio del napoletano, quindi sono queste palline fritte e poi immerse nel miele con tutti i confettini colorati. Buonissimo. Molto goloso. Ok, ok. E invece se ti chiedessi una serie tv che non ti è piaciuta, cioè proprio da guardare mai più. Oddio, così mi metti proprio in difficoltà. Bene. Così mi metti in difficoltà perché capito, cioè il tempo che ci metterò sarà lungo perché a parte che io sono un capricorno e quindi sono un sito, cioè sono un, sì senti a me, sono un segno testardo e quindi anche quando una cosa non mi piace la vedo fino alla fine. Ok. E questa cosa qua fa sì che poi alla fine qualcosa da salvare lo trovi sempre. Ok, quindi non c'è proprio una serie al film. E quindi è proprio difficile che riesco a recuperare la mia memoria, una cosa che mi ha fatto proprio schifo. No, recentemente sono rimasta delusa, ma non è che non mi è piaciuta, sono rimasta un po' delusa della vita bugiarda degli adulti perché sono una grande appassionata di Elena Ferrante, mi era piaciuto tantissimo il libro, avevo queste aspettative altissime e quindi come sempre quando hai aspettative molto alte poi, come dire, non vieni soddisfatto al 100%, anche se penso che sia in realtà un buon prodotto, quindi insomma quello seriale ecco. Che voto gli daresti da 0 a 10? No, no, è troppo, cioè siccome io poi ho un immenso amore per il cinema, sono laureata in televisione, cinema, in new media, ho anche un po' una seconda vita d'attrice, che è un lavoro che faccio nel pochissimo tempo che ho, cioè incastrandolo con le migliaia altre cose che faccio, guardo sempre tutto con l'occhio del professionista e del creativo e quindi non mi piace proprio denigrare un lavoro di altre persone perché c'è del lavoro dietro e del pensiero e quindi anche se poi non incontra i gusti di tutti come è normale che sia, ha sempre un valore, una dignità. Ok. E hai visto il film The Menu? Non ancora. Suggerisco di vederlo. Non ancora. Un po'... È che io ho una bambina di un anno e mezzo, quindi la sera alle nove di solito metto una serie, un film così e dopo un quarto d'ora boccheggio. Quindi diciamo che da quando è nata mia figlia sono rimasta un po' indietro, però insomma adesso piano piano sto recuperando. Ok. Adesso switchiamo e parliamo un po' di te. Hai già dato qualche piccolo spoiler del tuo percorso. Invece sarebbe sapere chi è Elena, dove è nata, che tipo di percorso ha fatto, che tipo di studi anche ha fatto e anche un po' le tue passioni prima di arrivare al tuo ruolo attuale, a The Force e al tuo lavoro. Allora, sono nata a Napoli nel 1983, dopo ho studiato a Roma lettere alla Sapienza con indirizzo musica e spettacolo e successivamente mi sono trasferita a Milano, dove mi sono specializzata in televisione cinema e new media all'Ulm. Sono sempre stata una persona molto creativa, curiosa e quant'altro e quindi poi nei lavori creativi cogli anche un po' le opportunità che ti arrivano, perché è un settore complesso. E quindi i miei primissimi passi li ho mossi nel mondo della ricerca e sviluppo per la televisione e il cinema, quindi ho fatto un breve stage come lettrice da Mikado, poi analista di format a Mediaset. Dopo questa esperienza sono approdata a Class Editori, dove per tre anni e mezzo, diciamo, perché poi c'è stata una parentesi in cui ho collaborato, ho lavorato nella redazione televisiva del canale Class CNBC, scrivendo news ma anche conducendo programmi all news. Dopo ho avuto una fase in cui mi è un po' capitato che le opportunità che mi arrivavano non erano tanto dal mondo dei media, che in realtà io ho sempre amato, ma dal mondo delle aziende, che sempre di più si stanno trasformando in dei media, in fondo, anche loro. E quindi ho collaborato con varie realtà, adesso non sto tanto a dettagliare il tutto, finché sono stata assunta da un'agenzia di relazioni pubbliche, in teoria, ho lavorato lì per forse due anni circa. Restopolis, la start-up che poi è stata comprata da The Fork, era un mio cliente, quando è diventata The Fork mi ha proposto di lavorare in modo esclusivo per loro e quindi sono arrivata a The Fork, dove mi sono occupata prima della comunicazione in Italia, poi della comunicazione di vari altri paesi, dopo sono passata al brand, più in 360 gradi e attualmente mi occupo del brand di The Fork in Italia e poi come dicevo preservo anche un po' una seconda vita d'attrice perché mi piace recitare, ho studiato recitazione insieme al mio percorso accademico e quindi tanto in tanto faccio anche delle cose in quel settore. Ok, quindi molto polifunzionale, cioè hai visto anche tante realtà, tante cose. Tante realtà, sì, sì, sì. Ok, è molto interessante quello che hai detto, che le aziende si stanno trasformando in un po' quasi dei media, dopo ne parliamo. E quindi adesso come brand manager Italia per The Fork che cosa fai? Qual è la tua daily routine? Ti svegli? Fai colazione? Faccio colazione, poi ho da casa o in ufficio, faccio delle call, no scherzo, cioè anche però diciamo che la mia responsabilità è la conoscenza e la reputazione del marchio, userò, vedi, delle parole in italiano perché avrei potuto dire la warner, la warness e la reputation del brand, invece l'italiano è una lingua bellissima e quindi insomma vale la pena usarla e quindi la conoscenza e la reputazione del nostro marchio sono il mio obiettivo. E' importante avere in testa l'obiettivo finale di quello che fai, i valori che esposiamo, la missione che abbiamo verso i nostri clienti che sono gli utenti di The Fork, cioè coloro che prenotano i ristoranti, ma anche i ristoratori che aderiscono alla nostra piattaforma, che gestiscono la sala e le prenotazioni del ristorante attraverso The Fork Manager che è il nostro software per i ristoranti. Tutto questo universo è la mia responsabilità, che si traduce nella pratica in che cosa? Nella strategia e nello sviluppo, quindi anche nell'esecuzione ovviamente con un team, con dei fornitori eccetera, di campagne volte a posizionare il marchio e quindi parliamo di campagne televisive, di media offline, di media online, supportiamo il marketing anche nelle campagne che hanno diciamo obiettivi un pochino più di marketing, quindi insomma di performance, ahimè l'inglesismo, il gergo ritorna, ma spero che chi ci ascolta non è a digiuno insomma e quindi capisce. Tutto questo si trasforma in un lavoro in realtà molto divertente, creativo perché sviluppo i contenuti per le relazioni pubbliche, quindi tutto quello che riguarda la stampa, i giornalisti, eventi, campagne televisive, campagne di integrazione di prodotto all'interno di format, insomma un lavoro molto bello e dinamico. E il tuo team come è composto? Allora io rientro nel team del marketing, quindi riporto al direttore marketing di The Fork per Italia, Spagna e Portogallo che è Rachel Bravo e quindi lavoro diciamo a stretto contatto con lei, collaboro con tutto il team del marketing perché insomma secondo me è un punto di forza veramente che noi abbiamo è questa forte collaborazione tra tutti i componenti della squadra e quindi quando parlo di team del marketing intendo il CRM per noi e il restaurant offer che si occupa invece di tutta l'offerta di ristoranti su The Fork, un po' semplificato però è necessario nei tempi che abbiamo altrimenti questa intervista dura 5 ore. E poi ho una collaboratrice preziosissima che è un po' il mio braccio destro che è Francesca Romana Cicco che è veramente, è un po' veramente il mio braccio destro e condividiamo gioie e dolori dei brand manager, executive, e chi più ne ha più ne metta e poi c'è tutta diciamo una parte del team importantissima che si occupa, che ha una maggior focalizzazione sui ristoranti e che cura le relazioni con il settore nella persona di Valentina 4 e la parte di B2B marketing, CRM e B2B marketing in generale, altre due colleghe adesso, mi piacerebbe nominarli tutti perché sono colleghi e persone preziose, però diventa lungo. Poi noi siamo un'azienda internazionale quindi abbiamo a che fare con il team centrale, con i colleghi di altri paesi, con cui c'è sempre uno scambio fruttuoso di idee, di risultati, dati, insomma elementi che arricchiscono reciprocamente il lavoro. Certo, ma invece adesso ti faccio una domanda, una piccola challenge. Un sogno che tu vorresti realizzare come brand manager Italia di The Fork? Wow, un sogno, un sogno, un sogno, un sogno, è difficile perché allora diciamo che in realtà noi già un pochino lo stiamo facendo in questi anni, io ho iniziato che The Fork era stata appena comprata da TripAdvisor, prima ancora era Restopolis, era una start-up e quindi come tutte le start-up dovevi un po', dovevi essere fortemente creativo perché i budget erano sempre molto risicati. Adesso abbiamo sempre ambizioni molto alte, quindi è chiaro che è sempre una sfida, però abbiamo sempre di più la possibilità di fare delle campagne valoriali e secondo me questa cosa che si sta concretizzando ma che può crescere ancora molto è una cosa che mi motiva tantissimo, cioè va benissimo raccontare un brand per il servizio che offre e noi offriamo un servizio fichissimo perché permettiamo alle persone di prenotare ristoranti che gli restano anche un po' nel cuore perché sono il teatro anche di momenti indimenticabili della loro vita. permettiamo ai ristoratori di ottimizzare il loro business, proprio l'altro giorno mi è arrivata l'e-mail di un ristorante, c'era grazie per il supporto che ci date e queste cose veramente… Ti danno gioia, no? Ti danno gioia, cioè nel senso, no? In una routine che a volte è fatta di call, di foglie Excel, eccetera, poi vedi queste parole e vedi proprio come il tuo lavoro si traduce in un'opportunità per gli altri e quindi questo è bellissimo, però quando puoi fare anche quel passo in più di sposare dei valori importanti per la comunità in cui sei e di generare un cambiamento significativo, allora sei ancora più soddisfatto e quindi credo che questo è un sogno che si sta già un po' avverando perché abbiamo a piano tantissime azioni di campagne, diverse azioni di campagne valoriali nei prossimi mesi, ma che è soltanto il primo passo, può solo crescere. Ottimo, quindi tu hai avuto l'esperienza quando De Fork era ancora una start-up e poi hai anche vissuto l'acquisizione, giusto? Sì, allora quando io ero l'ufficio stampa di Restopolis in un'agenzia, quindi ero un fornitore esterno, ho proprio curato in questa veste il lancio di De Fork in Italia con la stampa, però ovviamente in quel momento avevo un ruolo da consulente esterno, questo è bene chiarirlo perché ovviamente cambia un pochino la dinamica del lavoro. Certo, ok. E invece tipo raccontami un po' del tuo percorso anche legato al cinema, anche a questa tua passione. Grazie, che bella opportunità. No, in realtà io ho questa doppia vita da sempre, nel senso che quando a Roma studiavo lettere, in realtà avevo poi anche vinto una borsa di studio da ballerina e quindi ho studiato danza e ho fatto la ballerina fino a 21 anni perché riuscivo a tenere un po' in piedi le due cose. Poi sono venuta a Milano, mi sono iscritta all'Ulm, ho scoperto i ritmi frenetici di Milano che in realtà in città non ci sono, per cui avevo lezioni dalle 9 alle 18 con 800 workshop extra curricolari, eccetera. e insomma ho capito che la danza a livello a cui la facevo prima non potevo portarla avanti. E la Ulm come università ti è piaciuta? Tantissimo, tantissimo. Poi torniamo sullo Ulm. E quindi diciamo così, per un periodo durante gli anni accademici ho messo da parte questo aspetto della mia vita. Dopo quando ho cominciato a fare televisione, ho frequentato un corso di edizione, lettura interpretata, mi è piaciuto molto e quindi poi ho iniziato un percorso di studi teatrali, quindi ho fatto i miei tre anni di corso attori, campo teatrale che è una scuola di Milano. E come, siccome proprio poi nel mio carattere, no, questo, dopo un po' che studiavo ho detto sì, bello studiare, però poi dopo uno si acquisisce delle competenze, vuole portare questa cosa fuori, non solo per un discorso di riconoscimento personale, ma proprio perché questo è un po' il filo comune secondo me di tutte queste mie attività. A me piace raccontare delle storie, contribuire alla costruzione di valori positivi e secondo me è una cosa che puoi fare nell'azienda ovviamente, con una comunicazione più istituzionale, diciamo così, però artisticamente ti dà uno spazio, un agio diverso, puoi conoscere sfaccettatori diversi, linguaggi diversi, linguaggio attoriale è un linguaggio che parte molto dal corpo e quindi insomma ho deciso di continuare anche in questo percorso, limitatamente con i tempi che ho, ma ho iniziato poi a lavorare in produzioni indipendenti cinematografiche, continuo a studiare, a formarmi, insomma. Quindi anche c'è molto il prendere quello che tu hai avuto in esperienze legate al mondo delle arti in generale. Assolutamente. E a portarlo anche nella realtà aziendale. Certo. E hai trovato delle sfide in questo? Ma ho trovato delle cose positive, nel senso che per chi studia secondo me è fondamentale, soprattutto negli anni dell'università, che sono anni di formazione, è importante tenere la mente aperta, nutrirsi di quanti più stimoli possibili, perché poi alla fine cose che impari in un settore le puoi trasferire in altri, possono darti… Essere su un set, per esempio, come attrice, mi dà una consapevolezza rispetto a come si possono sentire e come possono performare al meglio gli attori che lavorano in una pubblicità di The Fork, o come dialogare meglio con un regista anche nella veste di cliente. E quindi questa cosa qua, il fatto di aver lavorato in televisione come giornalista, in agenzia come PR e in azienda come brand manager, mi permette di capire quale storia ha veramente valore per un lettore e quindi può funzionare su un giornale. Quindi secondo me è bello poter attingere a tutte queste esperienze e portarle da una parte all'altra della propria vita professionale e non. Super. Adesso facciamo un altro mini gioco. Io ti dico tre parole. Tu mi dici cosa ne pensi, una sorta di feedback, primo impatto, sia aspetti positivi che negativi delle parole che ti dico. La prima parola è recensione. Allora, le recensioni sono un po' il mio pane quotidiano perché The Fork è un portale di prenotazione ma permette anche di lasciare delle recensioni e le recensioni sono uno strumento prezioso per i ristoranti, nel caso di The Fork, ma in generale per chiunque le riceva, di capire i propri punti di forza, di capire le proprie aree di miglioramento, di cogliere cose e aspetti che magari uno in prima persona non conosce di sé, del suo prodotto e quant'altro. Quello che è secondo me importante da tenere a mente, soprattutto per chi le scrive, è il rispetto del lavoro altrui. Ne abbiamo parlato prima rispetto a una serie che non ti è piaciuta per niente. Ci sono magari delle cose che non hanno incontrato il mio gusto, però non va bene recensirle in un modo netto e negativo senza rispettare il lavoro che c'è dietro. Quindi uno può suggerire dei miglioramenti, può fare degli appunti sacrosanti, qualora un servizio non sia stato in linea con le aspettative, però secondo me va fatto sempre con il massimo rispetto del lavoro che c'è dietro. Molto difficile però, io mi penso anche, non so, certe volte vedo delle recensioni che sicuramente non sono filtrate da questo punto di vista alternativo, però si sono completamente allineato con quello che dici. L'altra parola è burnout. Burnout, beh… Giusto per stare con gli inglesi. No, 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 va bene, va benissimo. No, siamo sottoposti a dei ritmi di vita veramente impegnativi, frenetici. Io mi ritengo una persona molto fortunata perché lavoro in un'azienda che è molto rispettosa dell'equilibrio tra la vita privata, che è fondamentale, e la vita lavorativa. Per esempio io ho una bimba piccola, lo dicevo, riesco a gestire con molta flessibilità, ovviamente con il mio manager, i miei orari, a lavorare da casa spesso e questo mi permette di ottimizzare proprio il mio tempo di lavoro e quindi mi ritengo veramente molto fortunata perché riesco a coltivare quello che per me è una passione ma anche un lavoro alternativo, riesco a essere presente in famiglia e riesco a dedicare, secondo me, un tempo congruo, produttivo, felice e fruttoso al mio lavoro dentro The Fork. Trovare questo equilibrio non è sempre scontato e soprattutto non viviamo in una società che ci semplifica la vita da questo punto di vista. Se penso per esempio in generale in Italia le politiche per le famiglie sono molto mediocri, cioè è molto difficile trovare un nido, è molto difficile avere degli aiuti intorno a sé, io non ho i nonni vicini e quindi sento proprio questa mancanza. quindi capisco che sia molto sfidante per la maggior parte delle persone riuscire a trovare un buon equilibrio, però è fondamentale. Ottima, l'ultima parola chiave è ristorante, però la rigiro e ti chiedo suggerisci un ristorante dovevi andare a mangiare questa sera. Allora, oddio, dovrei mangiare questa sera, però dovrei sapere che cosa ti piace, perché ovviamente ti posso suggerire un ristorante che piace a me, però... Allora selezioniamo un ristorante di pesce. Un ristorante di pesce. Sì, in tutta Italia. Un ristorante di pesce, oddio, diventa difficilissimo. Allora, allora, allora... Vuoi che ti semplifichiamo l'aria? No, aspetta, guarda, no, aspetta, adesso fammi... Allora, io ti suggerirei in realtà a Milano, visto che siamo qui, però non so se stasera hanno un menù di pesce oppure no, perché cambia sempre Identità Golosi Milano, che è un nostro partner, Powered by the Fork. Perché ti suggerisco questo ristorante? Perché è un ristorante molto particolare, dove l'esperienza cambia di settimana in settimana, perché ospita degli chef sempre diversi, che sono delle eccellenze della gastronomia italiana, quindi vai sempre a colpo sicuro. E per questo il tutto ha un costo assolutamente democratico, pur trattandosi di alta cucina. È un'esperienza molto bella e quindi, insomma, mi sento di consigliartela, prenotabile esclusivamente attraverso The Fork. Oh, aspetta, guarda, me ne è venuto in mente un altro, perdonami, ma devo citarli. Pizza Out, che è questo ristorante che noi supportiamo. È un ristorante che ha un progetto meraviglioso di inclusione di persone affette d'autismo e oltretutto fa una pizza eccezionale. Infatti è uno dei ristoranti di maggior successo proprio su The Fork e non solo, sta ottenendo in questo momento grandissima visibilità per il suo progetto, per i valori che trasmette, ma anche proprio per la cucina, perché è veramente buona la pizza che fanno e quindi, insomma, ve lo consiglio. Super. Ma se invece dovessi dare un altro consiglio, che è un consiglio a uno studente, una studentessa che ci sta ascoltando, sta guardando questo video, che tipo di consiglio gli o le daresti? Finito l'università, cioè si approccia dal mondo del lavoro completamente diverso anche un po' da quello che è il mondo dell'università, in cui comunque magari hai anche il contatto con le aziende, e comincia ad avere qualche esperienza, però ovviamente ti sbatti con una realtà che poi dipende dall'esperienza, da dove vai a finire, però può essere molto diversa. Tu che consigli ti sentiresti di dare? Io non penso di avere, cioè come dire, non so se sono la persona giusta, però di, l'ho detto anche prima, di tenere un po' la mente aperta. Io mi sono sempre, da una parte ho sempre considerato il mio punto di forza, quello di avere questa grande curiosità, questa grande apertura verso le opportunità che c'erano, perché soprattutto per una donna, poi essere economicamente indipendente, economicamente libera, è un obiettivo importante, fondamentale, e quindi io avevo ben chiaro questo, e volevo fare un lavoro creativo, ma volevo mettere insieme queste due cose, per cui ho colto tutte le occasioni che mi venivano fornite, anche a volte sacrificando, come dire, quell'anima un po' più artistica che avrebbe richiesto maggiori sacrifici, anche economici, o insomma che non mi avrebbe garantito la stessa sicurezza. Quindi sono sempre un po' in un dilemma, perché da una parte per me questa apertura ha funzionato, e dall'altra vedo invece delle persone che fin dal primo giorno sapevano esattamente, precisamente cosa volevano fare, e ci sono riuscite, insomma alcune di loro ne sono felice, veramente per loro, anche i compagni di classe che sono dello Yulm, che stanno avendo dei bellissimi successi, e insomma sono felicissima per loro, e loro hanno seguito una strada completamente diversa, che per loro ha funzionato, quella di, come la goccia cinese, che batte, 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 quella cosa lì non si arrende mai, io invece sono stata più, ho colto un po' navigato sulle onde che mi arrivavano, e quindi non c'è secondo me una ricetta, un approccio unico, in generale credo che sia bello, soprattutto oggi, ecco un consiglio che mi sentirei di dare, a prescindere dalla metodologia, è quello di, se hanno la possibilità di viaggiare tanto, di fare esperienze in altri paesi, perché è anche un momento della vita in cui si è più liberi da vincoli, e quindi se parti per un anno, di rischiare, ecco, di rischiare, di rischiare un pochino, quello sì, perché è l'unico momento dove uno può veramente rischiare un po' di più, dopo incominciano ad esserci anche altre esigenze, e vedere, capito, sì, per persone, esatto, e altri fattori, altre esigenze, invece appena uscito dall'università puoi ancora rischiare, perché io quando sono uscita dall'università, e poi concludo perché vi sto dicendo troppe cose, avevo questa cosa che dovevo in fretta concretizzare, e invece a volte ci si può prendere anche un po' più di tempo, rischiare un po' di più e puntare in alto. Certo, ma è comunque della tua flessibilità e agilità, secondo me nel tuo percorso hai fatto un punto di forza. Certo, io ho trovato questa chiave, ne ho fatto un punto di forza, però dico, non so se è una ricetta universale. Cioè, beh, ma la ricetta universale non c'è di sicuro. Ultima domanda, anche questa disruptive. Vai, vai. Giusto per stare in tema inglesismi, vabbè, ogni tanto vengono fuori. Raccontaci un tuo segreto. Un mio segreto? Oddio, non lo so. Davvero, cioè, mi hai colto impreparata in più di un'occasione. Ed è giusto così, una spontaneità. Per rimanere in inglese. Un mio segreto? Oddio, non saprei. Non saprei. Ti posso dare delle... Vai, dimmi. Cioè, dammi, dimmi. Può essere legato alla tua esperienza lavorativa, magari anche a esperienze lavorative precedenti. Può essere anche un piccolo momento divertente. Dai, non è per forza un segreto di qualche tua esperienza lavorativa, anche legata al cinema in realtà. Sì, boh, chi lo sa. Non sono bene, sono una persona senza segreti, Matteo. No, ecco, sono troppo trasparente e parlo anche parecchio. Quindi chi mi conosce sa, diciamo, poverino, tutti fatti. Perché io arrivo in ufficio, la racconto, così. Per cui veramente non c'è niente di scottante. Allora, suciamo. No, altra domanda. Vai. Ok, ultima domanda. Vai. Se adesso vincessi un milione di euro, ok? Ah, che bello. E potessi usarle in qualche modo, che cosa ci faresti? Allora, prima di tutto andrei in vacanza. E poi voglio sapere dove andresti in vacanza. Ah, no, non so. Guarda, in realtà ho una vacanza pianificata breve alle Maldive. Fantastico. Quindi diciamo che in realtà, in modo molto più piccolo, perché vado per sette giorni e così, quindi potrei andare alle Maldive però per un mese e staccare la spina. Un attimo. Io vivrei alle Maldive. Allora, no, in realtà io ho un po' un progetto tra i 250.000 che ho sempre in testa, quello di lavorare sulle storie interattive, quindi su, appunto, queste sorte di game. Adesso non so se avete avuto modo di giocare con Scriptic, per esempio, che è parte di Netflix Games. Sto facendo una pubblicità a Scriptic e a Netflix. Però sono queste storie interattive con una parte di gaming importante e secondo me è un settore molto interessante e che… La storie interattive tipo… Tipo interactive movies, tipo Bandersnatch, ma con una componente di gaming, quindi non con una struttura narrativa, diciamo, ramificata e con una componente di gaming importante. È un'area su cui sto facendo anche in realtà delle ricerche, su cui mi piacerebbe avere dei progetti di impresa e quindi se avessi un milione di euro probabilmente una fettina ne investirei in un business del genere. Fantastico. Beh, Elena, innanzitutto grazie mille per questi, i tuoi suggerimenti, questi input e aver raccontato il tuo percorso. È stato un piacere avertimi qui. Grazie a te, a te, grazie a voi. Ciao. Ciao.